. Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 3 dicembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Domenica Super, con tutti gli astri a favore. Il primo a darvi corda è Marte scalpitante nel vostro segno, accompagnato dal sole idealista e sempre generoso e collegato alla luna da un trigono corroborante, che le infonde forza e reattività. Ma il meglio ve lo regala venere dolcissima per l'ultimo giorno in se stile, il dono d'addio è sempre il migliore, una splendida combina per spera di trasformare in corner un'amicizia in amore o di riappacificarsi con un amico, allontanato da una stupida barruffa. Premio di consolazione lo sport, per chi lo pratica regolarmente caldeggia le escursioni invernali nella natura oppure lavora a contatto col pubblico, sempre esigente e coinvolgente in questo periodo. I vostri clienti non vorranno che voi, disposti anche a fare lunghe code pur avervi come referente, perché siete speciali, simpatici, comunicativi e ne siete ben consapevoli. Si apre una fase negativa per l'amore, la colpa è da ricercare in errori commessi prima e durante un rapporto. Sarà difficile recuperare una situazione, abbattimento e solitudine contribuiranno ad allontanarvi dalla persona cara. Arrivo di notizie negative. Si inglimpina e imbaglia della tristezza e della solitudine. Non vi verrà chiesto di comprendere le ragioni del vostro partner, ma almeno di accettarle. Non fate confidenze pericolose a gente che conoscete da poco. Zizzania in vista. Fantasia a parte, vi sentite un po' scarichi e la colpa è di un Marte che vi lascia in preda ad una sorte di apatia che potrebbe coinvoleggere le vostre energie migliori. Buone prospettive di riprese in tarda serata. Inutile essere gelosi, la situazione che si è venuta a creare non cambierà per questo. Mettetevi l'animo in pace e guardate avanti. Se dovete chiedere un chiarimento per risolvere una questione importante è giunto il momento di farlo, non abbiate timore ad affrontare una questione che avreste dovuto già affrontare da tempo. Una delusione bussa la porta. Sì irrealista. Evita di idealizzare persorie e situazioni e calcola bene il peso delle tue decisioni. Prestate molta attenzione alle spese superflue e inutili, limitate al massimo lo shopping e gli acquisti di cui non siete sicuri. Giornata alquanto complicata per le proprie finanze. Bolletti in arrivo. Il mondo sembra girare al contrario oggi per i nati dei lunedì. Qualche spiacevole inconveniente anche per i nati di giovedì. Gli altri invece godranno di una giornata tranquilla con qualche acuto in serata. Ignora chi non sa dare il buon esempio pur affannandosi a darti consigli. Fa di testa tua. Se siete preoccupati per la vostra forma perché non pensate di rivolgervi a uno specialista e iniziare una dieta? In fondo un buongiorno inizia stando bene con se stessi. Da Marte a Venere, dal sole alla luna non avrete di che annoiarvi, trovando sempre occasioni di divertimento, di avventura, di condivisione di interessi col prossimo. Rinnovamento è la parola chiave di oggi e lo stabiliscono varie forze planetarie che vi guardano con occhio benevolo. Compleanno rampante per voi idealisti, sempre con la spada pronta da sfoderare all'occorrenza, per difendere i principi della libertà e i diritti di tutte le donne e di tutti gli uomini. Combattivi, decisi, sicuri di voi stessi e delle vostre idee, oggi andate d'amore di d'accordo con la luna e un leone, altrettanto orgogliosa di sé e dei propri credo. Amore ed eros. Messaggi affettuosi in tutte le salse e in tutte le lingue, segno che avete carisma e il vostro charme fa presa ad ogni latitudine. Parole d'amore piene di tenerezza e comprensione anche con il partner e nei confronti dei parenti, soprattutto i fratelli più giovani, ancora bisognosi dei vostri consigli. Marte, che sta viaggiando nel vostro segno, è l'agile promotore di contatti che avranno poi tutta l'aria di trasformarsi in interessi sentimentali. E starà a voi decidere chi vi piace di più. O, meglio, sarà stato Cupido, figlio della Dea Venere adesso nel segno amico della bilancia, ad aver colpito con più decisione o energia la persona giusta per voi. La configurazione planetaria vi apre a nuovi amori. Lavoro e denaro. Domenica perfetto per un'escursione fuori città a respirare ossigeno, per allenarvi, per assistere a uno spettacolo entusiasmante, come il concerto del vostro gruppo preferito o ancora una manifestazione politica che ora più che mai sentite come necessario. È finita l'epoca di far parlare gli altri, ciascuno ha la propria da dire e lo fa assumendose nella responsabilità in prima persona, l'unione fa la forza. Venere e Marte sono i vostri paladini d'eccezione. La prima vi stimola a varcare con audacia nuovi territori, a proporvi, a non stare mai fermi, trovandosi ospitata nel buon amico segno della bilancia. Il secondo, invece inserisce la progettazione paziente magari insieme ad altri collaboratori, colleghi, esperti esterni, di importanti piattaforme di lavoro o inserimento in nuove realtà attive. Molto favoriti il settore del turismo e del commercio, dei viaggi e della promozione dei prodotti tipici della nostra terra. Attivate tutte le vostre energie per costruire un ambizioso progetto professionale se svolgete una professione autonoma. Benessere. Vitalità e grinta ai massimi storici, a rendervi così energici un buon sistema di vita, l'aria pulita che respirate nel weekend e l'attività fisica che praticate ogni giorno, magari correndo al parco col vostro quattro zampe. Anche la camminata veloce fa un gran bene, perciò continuate ad allenarvi anche se fa freddo piove. Denaro. Con una pioggia di favori celesti come quella che vi cala oggi, impossibile sottarsi alla possibilità di tentare la sorte al gioco. Tutte e tre le decadi del vostro segno sono predisposte a ricevere ottimi influssi. Per lei, splendido mix di testa e cuore, ai quali per una felice combinazione del destino o delle fate attorno alla vostra culla, si somma anche una bella faccia simpatica. Ma adesso non montatevi la testa. Per lui, iperattivi, al pensiero velocissimo tien dietro la parola pronta e l'azione estemporanea. Con questa celerita abbattete tutti. Colore delle emozioni, rosso ciliegia. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 8, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.